Buongiorno, allora stavo dicendo sì, qui abbiamo anche la casa di Galilei, non sappiamo precisamente numero civico primo, numero civico dopo, diciamo, a parte le lapidi, però sappiamo dalla storia che qui Padova ha ospitato Galilei, Copernico e tanti altri, insomma, hanno avuto un ruolo e quindi anche per questo motivo l'abbiamo congiuntamente organizzato, metà qui, diciamo, al Dipartimento dei Fisici, noi siamo fisici, e però abbiamo anche gli storici dell'astronomia e appunto soprattutto per questi anniversari è indicato anche la sede, è molto indicata anche la sede dell'osservatorio La Specola, qui un po' più avanti, chi è venuto ieri al pre-evento già ha incominciato ad assaggiare, mettiamola così. Il primo e l'ultimo giorno, l'inizio e la fine la terremo qui, il martedì e il venerdì, i lavori congressuali, metri invece, il mercoledì e il giovedì, staremo alla specola, per chi sta a Padova, diciamo, è tutta una walking distance. Insomma, quindi, proprio in apertura, non solo sento il mio dovere, ma è un ringraziamento particolarmente sentito, innanzitutto al Dipartimento di Fisica, che ci ospita, e dopo, diciamo, ci sarà il rappresentante del direttore, a dire due parole, e l'osservatorio astronomico, che pure ci ospita, che ci hanno permesso di realizzare il nostro congresso quest'anno qui a Padova, e fatevi ringraziare anche più in generale l'INAF, all'Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha contribuito, non solo, diciamo, dal punto di vista logistico, ma anche per permettere tutta una serie di cose che vedrete in questi giorni. Fatemi anche ringraziare, prima di dare la parola, per i saluti istituzionali, anche al comitato locale, che, diciamo, ha organizzato, lo ringrazieremo tutti insieme, alla fine, come vedrete, diciamo, lo svolgimento, però noi già abbiamo visto da dietro le quinte come è stato organizzato, mi sento particolarmente di ringraziare tutto il comitato organizzatore locale, e lasciatemelo dire, in primis, ovviamente, come sapete, il comitato organizzatore, sono tante persone che permettono l'organizzazione fattiva del congresso, ma poi, diciamo, chi si ruote il fegato, chi non dorme la notte, eccetera, eccetera, ovviamente, diciamo, ricade questi impegni su poche persone, e quindi, innanzitutto, la dottoressa Valeria Zanini, il dottor Federico Di Giacomo, e non mi fate dire tutti i nomi, è tutto poi l'altro staff che ha contribuito con loro. Va bene, allora, mi fa particolarmente piacere far notare anche che quest'anno, appunto, anche per onorare gli anniversari stellari che dicevo prima, e non solo, ci hanno onorato della loro presenza, un po' di personalità che conoscevano, avrete visto dal programma, innanzitutto, all'apertura, il professor John Elbron, che è venuto appositamente per noi dagli Stati Uniti, e non mi fate dire, avete visto, ci abbiamo diverse personalità, dalla Germania, da altre parti d'Europa, che hanno voluto contribuire alla buona riuscita di questo congresso, e che quindi ringrazio adesso qui, cumulativamente, molto caldamente, e direi, diciamo, non la voglio portare a lungo, quindi pregherei il... non è potuto essere qui... Ah, volevo dire una cosa, il professor Lucio Russo, che pure doveva essere presente da noi oggi pomeriggio, che aveva accettato, diciamo, nonostante l'età, proprio ieri sera tardi, diciamo, gli è venduto un po' di febbre, e quindi purtroppo non potrà essere con noi qui oggi, è chiaro, i problemi collegati all'età, quindi purtroppo è venuto, diciamo, a mancare questo contributo, ce ne dispiace, però, diciamo, e noi gli abbiamo, ovviamente, neanche potuto chiedere di fare collegamenti a distanza, diciamo, per motivi di salute, e quindi non ce la siamo sentiti di fare questo, quindi ve la dico da adesso questa cosa. Allora, volevo chiamare un attimo, per i saluti istituzionali, chi ci ospita qui oggi, il direttore del Dipartimento di Fisica, non è potuto essere presente qui con noi, ma ci sta il suo vice, che lo rappresenta, il professor Giulio Peruzzi. Grazie. Grazie. Allora, io intanto ringrazio il professore Esposito e do il benvenuto a tutti i congressisti nel Dipartimento di Fisica e Astronomia, come poi oggi pomeriggio sottolineerò qual è l'origine di questo Dipartimento relativamente recente ora, ma molto antica invece, con una tradizione lunga, e come avete visto dal filmato, che forse non vi siete accorti è passato prima, perché c'era un po' ancora di... Il Dipartimento di Fisica e Astronomia di Padova lavora in praticamente tutti gli ambiti di ricerca, sia all'interno dei settori della fisica e astronomia, ma anche quelli interdisciplinari, per cui, per esempio, scusate, ma questo è la mia colpa, per esempio, appunto, c'è tutta una parte di biofisica, quindi interazioni con molti dipartimenti, e non sta a noi dirlo, non amo le autocertificazioni di eccellenza, però è uno dei grandi dipartimenti, forse il più grande dipartimento di fisica e astronomia in Italia, tra i grandi dipartimenti di fisica e astronomia, è uno dei dipartimenti che effettivamente ha avuto vari riconoscimenti per il tipo di ricerca, quindi per l'eccellenza delle ricerche che vengono svolte, e dico due parole ancora per, appunto, sottolineare due aspetti che forse in questo contesto sono particolarmente significativi. La prima cosa è che questo è uno dei pochi dipartimenti, oramai se ne parlava con alcuni colleghi prima, in cui dipartimenti di fisica e astronomia, dove esiste la storia della fisica e dell'astronomia, rappresentata in maniera minimale, ma insomma, come si diceva anche con l'esposito ieri, a Napoli, al dipartimento Pancini di fisica, c'è lui, però non è che ci sia dieci persone, e però comunque questo è un segnale, un segnale di attenzione del nostro dipartimento qui a Padova per questo tipo di ricerche, insieme a questo c'è un'attenzione ulteriore, cioè il dipartimento a cui appartengo ha molta sensibilità per la salvaguardia dei beni culturali, in particolare di quelli di tipo collezioni scientifiche museali, per cui impegnandosi in prima persona, abbiamo un centro museo di Ateneo, però mettendoci anche del suo, ha investito sia in termini finanziari che in termini di acquisizione di personale, nell'ambito museale della salvaguardia del patrimonio. Per cui, come spero alcuni di voi avranno modo di vedere, è stato riallestito il museo di storia della fisica, che ora è stato ribattezzato, il museo Giovanni Poleni, e il luogo è abbastanza angusto, ma il riallestimento è bellissimo, per chi ha visto il museo di storia della fisica, prima, e lo vede oggi, effettivamente rimarrà, secondo me, entusiasta di questa nuova cosa. Abbiamo poi anche un altro museo, che è il museo ad Asiago, il museo degli strumenti di astronomia, e anche su quello stiamo investendo per un allestimento, perché per ora era ancora tutto da risistemare, però è un piccolo museo, ma molto significativo. Ed infine, sempre dal nostro dipartimento è partita un'iniziativa, sapete che l'anno scorso erano gli 800 anni dell'Università di Padova, un'iniziativa che ha preso il nome Museo Diffuso, e che credo troverete nelle vostre cartelline, e vi suggerisco, non perché sono stato tra gli animatori e gli ideatori di questo progetto, ma vi consiglio di andare a fare questo giro, perché in Atenei di lunga tradizione, come l'Università di Padova, 800 anni, esiste un patrimonio, e appunto questa è un'idea che è venuta alla conservatrice del Museo Poleni e a collaboratrici sue, Fanny Marcon, quindi Sofia Talas, Fanny Marcon, esiste un enorme patrimonio strumentale che nessuno conosce, neppure l'Ateneo. E allora quello che è stato fatto è ritirare fuori e riconoscere questo patrimonio, in alcuni casi veramente eccezionale, e valorizzarlo dipartimento per dipartimento. Sono stati coinvolti 13 dipartimenti dell'Università di Padova. E allora questo Museo Diffuso vuole essere una testimonianza lasciata in maniera permanente, non occasionale, per gli 800 anni, in cui si fa vedere un piccolo assaggio degli highlights di quelli che sono gli incredibili tesori dell'Università di Padova, dipartimento per dipartimento. Uno di queste tappe, l'avete visto giù, forse non ve ne siete accorti, insomma, l'atrio da cui siete venuti su c'ha una postazione, una delle postazioni del Museo Diffuso e vi assicuro che l'atrio, prima che quella fosse costruita, era un atrio brutto, che non dava il senso di dove si stava, ce ne sono altri ancora più brutti e che sono meno identitari, penso alle psicologie che sono tutti palazzi nuovi dove potrebbe esserci dentro qualunque cosa e anche lì sono stati fatti degli interventi di questo genere. Quindi in questo senso questo dipartimento ha dimostrato e dimostra una grande sensibilità per la storia della fisica e dell'astronomia. Do a tutti il benvenuto, ovviamente, a nome di Flavio Seno e vi auguro un buon soggiorno a Padova, un futtoso convegno, quindi I wish you all a pleasant stay in Padova and a fruitful congress. Do la parola ora di nuovo ad Esposito, anch'io ovviamente mi associo al professore Esposito ringraziando tutti quelli che hanno contribuito, in particolare io prendo la mia parte, nel senso ovviamente Valeria Zanini è stata là, però per la parte Dipartimento di Fisica e il concorso che ha dato e sta dando a questo congresso, in particolare Fanny Marcon e per la parte tecnica qui c'è Roberto Temporin e Sara Magrin che è passata prima ma che danno il supporto per realizzare queste riprese. Grazie. Grazie. Grazie Giulio. E diciamo, sì, lui ha evidenziato un altro dei tanti motivi per cui siamo orgogliosi di venire qui a Padova, proprio per le cose che diceva non solo gli 800 anni, il museo diffuso, eccetera, eccetera, perché noi come SISFA diciamo, ci teniamo anche a far conoscere diciamo, al resto d'Italia, i nostri soci, eccetera, le varie realtà diciamo locali sparse per Italia, anche se le situazioni di storia della Fisica lo sappiamo benissimo, sono disastrose in Italia, però diciamo, dove ci stanno dei piccoli raggi di luce diciamo, ci fa pure piacere diciamo, metterli in evidenza. Allora adesso chiamerei a fare un saluto al direttore Roberto Ragazzoni, il professor Roberto Ragazzoni, che è il direttore dell'osservatorio astronomico. Grazie. Benvenuti a tutte, benvenuti a tutti e welcome to everyone. Le parole sono importanti come dice Moretti, quindi qui siamo al Dipartimento di Fisica e Astronomia, ma metà del congresso e l'evento, il pre-evento appunto di ieri si è tenuto all'osservatorio astronomico di Padova, che è una delle strutture dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in cui anche in questa sede c'è una piccola parte, molto importante, parte museale, avevo detto piccolo, avevo subito fulminato dalla mia collega Valeria Zanini, che è anche tra gli artefici di questo congresso. Mentre parlava l'amico e collega Peruzzi, mi è venuto in mente che lo strumento su cui ho lavorato nella tesi credo faccia parte del Museo di Asiago, quindi questo forse vuol semplicemente dire che ho una certa età e non molto più di tanto, però volevo approfittare e parlare un minuto solo per ricordare una cosa che ho accennato rapidamente ieri nell'osservatorio astronomico è intrisa la storia dell'astronomia degli ultimi 250 anni a Padova e tutto quello che è connesso e questo è costruito in simbiosi con laboratori moderni, uffici moderni, centri da cui si controllano telescopi che sono nello spazio, che sono dall'altra parte del mondo e dove si costruiscono strumenti che vanno in orbita o che vanno nei posti più remoti del nostro pianeta e questo secondo me è una delle cose diciamo più interessanti per cui la gente che lavora costruendo l'astronomia di frontiera o provandoci almeno diciamo lo fa respirando la storia della fisica dell'astronomia che è riuscita ad arrivare fino a quel momento e questo secondo me è un valore aggiunto che magari per i colleghi di Padova e di qualche altra struttura viene diciamo considerata diciamo per assodato ma invece diciamo è molto importante quindi anch'io come i miei due colleghi auguro i migliori lavori a tutte e da tutti di questo congresso grazie grazie al professor ragazzoni adesso inviterei la dottoressa Antonella Gasperini dell'INAF istituto nazionale di astrofisica responsabile nazionale anche lei a dire due parole grazie e buongiorno a tutti e a tutti io sono Antonella Gasperini e sono la responsabile del MAB INAF MAB sta per musei e archivi biblioteche dell'istituto nazionale di astrofisica porto anche i saluti del direttore scientifico dell'istituto nazionale di astrofisica Filippo Zerbi che è fuori all'estero ma che appunto mi ha pregato di augurarvi buoni lavori per questi giorni di congresso l'istituto nazionale di astrofisica lo diceva prima Roberto Ragazzoni è un istituto un ente pubblico di ricerca che è nato un po' più di 20 anni fa il cui scopo fondamentale è fare ricerca in campo astrofisico di frontiera di sviluppare tecnologie ad altissimo livello ma essendo nato dalla fusione di 12 osservatori astronomici si è portato in dote un patrimonio storico importantissimo e in questo senso proprio fin dalla sua nascita all'interno del proprio statuto ha dato proprio spazio anche alle tematiche di tutela valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio non solo ma anche ha dato un riferimento molto preciso al fatto della disseminazione di una cultura astronomica che ovviamente comprendesse anche gli studi di tipo storico per questo motivo quindi all'interno del nostro istituto c'è un gruppo di persone che professionalmente non come attività extra alla propria attività di ricerca scientifica si occupano appunto di tutela del patrimonio storico e di ricerca storica l'istituto nazionale di astrofisica da diversi anni ormai collabora con la SISFA però diciamo c'è stato nel 2022 un passo importante perché è stato siglato un protocollo di intesa che proprio stabilisce una collaborazione stretta nei campi appunto della valorizzazione e della ricerca storica molto comuni e di portare avanti proprio un progetto non è un caso che attualmente anche nel comitato direttivo della SISFA ci siano anche degli astrofisici proprio anche per questo motivo non di tipo universitario ma appunto di un ente di ricerca ecco l'ente di ricerca proprio per le sue caratteristiche è anche il nostro che è un ente distribuito su tutto il territorio nazionale dobbiamo dare atto che rispetto agli altri enti costituisce una particolarità diciamo una favorevole e particolare eccezione in senso positivo proprio per lo sviluppo degli studi storici concludo facendo anch'io i complimenti anche per il programma perché il programma è molto articolato anche diciamo poteva essere un po' schiacciato sulle ricorrenze come diceva anche Salvatore ma in realtà ha un respiro veramente molto molto ampio grazie e buon lavoro a tutti per il congresso e infine diciamo last but not least come si dice appunto Antonella Casperini faceva riferimento la SISFA tiene un po' di convenzioni a parte con l'INAF tutti quelli che si sono iscritti al congresso hanno utilizzato diciamo facilities diciamo web indico eccetera appunto ospitate dall'INAF ma non ci abbiamo solo collaborazioni appunto per queste questioni più tecniche ma anche più sostanziali uno di queste è con la società italiana di storia della scienza già da qualche anno e poiché diciamo siamo venuti a Padova e poiché la presidente diciamo con cui comunque collaboriamo strettamente a livello di scambi culturali e non è proprio di Padova diciamo non ci sembrava opportuno chiedere anche a lei alla professoressa Elena Canadelli di fare un piccolo saluto a nome della società visto che comunque molti soci anche della SIS parteciperanno al nostro congresso grazie grazie mille sarò breve grazie dell'invito appunto io insegno qua storie della scienza e quindi sono molto contenta che questo convegno sia ospitato a Padova Giulio Peruzzi ha già sottolineato come l'Ateneo di Padova sia interessato al patrimonio connesso alla storia delle scienze in generale io sono più spostata diciamo sul museo botanico su altri temi però effettivamente c'è una grande attenzione quindi è un onore avervi tutti qua diciamo vestendo i panni della presidente della società italiana di storia della scienza è da anni appunto che collaboriamo alcuni dei temi che sono emersi già in queste presentazioni cioè l'attenzione alla valorizzazione allo studio del patrimonio sono anche un tema che la società italiana di storia della scienza sta perseguendo con grande forza insieme per esempio ai progetti con le scuole e quindi io spero che nei prossimi anni appunto sono processi lunghi visto che molti soci della SISFA sono anche soci SIS molti soci SISFA si possa creare una convergenza importante su queste tematiche che richiedono una grande attenzione una grande sensibilità stiamo organizzando Summer School anche con il Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia di Milano io vengo da lì diciamo come forse si nota dal mio accento e anche con il Museo Galileo di Firenze dove la società ha la sede legale da un due anni e mezzo quindi stiamo lavorando in sinergia molto con i musei in sinergia molto con le scuole abbiamo appena fondato è stata una faticaccia devo essere sincera una nuova rivista che diciamo riprende il nome di una rivista gloriosa del novecento che è Scienzia con un nuovo sottotitolo cioè la rivista della Società Italiana di Storia della Scienza è uscito il primo numero che è in open access ma è anche cartaceo vi invito insomma a guardarlo vi invito anche su questo qualcuno ha già aderito che vedo in sala con dei contributi perché appunto delle parti sono proprio dedicati alla didattica della storia della scienza oppure al patrimonio insomma tanti temi che ci accomunano e che ci avvicinano con prospettive diverse ma insomma io sono molto fiduciosa e spero veramente che il dialogo cresca negli anni con tante iniziative quindi mi dispiace che non posso stare per tutti i lavori perché devo andare a Napoli al convegno giovani della Società Italiana di Storia della Scienza che abbiamo organizzato ecco un ultimo punto stiamo investendo tantissimo anche perché mi sembra l'unica cosa che si può fare sui giovani e su 220 soci della società un centinaio sono giovani ad oggi e questo è un segnale molto importante un segnale che quindi c'è diciamo un interesse e ci sono delle persone su cui lavorare quindi io spero che potremo lavorare insieme vi auguro insomma un buon soggiorno a Padova che appunto è anche la mia università e complimenti per il programma e alla prossima iniziativa magari comune grazie grazie avete capito diciamo da queste brevi presentazioni che appunto diciamo la società la SISFA è molto trasversale appunto non solo fisica e astronomia spero che non ci abbia seguito non mi abbia seguito Fabrizio Bonnoli a distanza che verrà oggi pomeriggio se non mi bacchetto che mi ero dimenticato là diciamo del dipartimento di fisica e astronomia appunto non solo questo ma anche cose trasversali e perciò ci faceva piacere uno l'INAF anche per i musei le biblioteche eccetera e la società italiana di storia della scienza appunto perché noi siamo aperti e anzi se volete diciamo vedere non solo la nuova rivista e altre cose anche sul sito nostro diciamo ospiti a tra le news potete trovare tutte queste altre cose trasversali e quindi diciamo a questo punto dichiarerei aperto il 43esimo congresso della società italiana nazionale degli storici della fisica e dell'astronomia e passerei direttamente alla prima sessione e a chiamare la CERPERS nella sessione della professoressa Ivanna Gambero grazie a tutti